Questa è l'ultima Linotype che abbiamo utilizzato, l'ultimo giorno fu nel 1978 per fare il numero del giornale che annunciava l'elezione di Giovanni Paolo II di Papawoitiwa. Quella è una delle milioni di pagine, 1.761.000 pagine che abbiamo digitalizzato e che saranno nelle prossime settimane disponibili su internet per tutti, online gratuitamente. È un progetto di questo tipo, di mettere un archivio dal 1867 a oggi, una massa di dati e di pagine così grande che nel mondo hanno fatto il New York Times e il Times di Londra, che però a differenza nostra hanno un archivio che ha pagamento. Invece quello della stampa sarà fruibile da tutti gratuitamente. Uno potrà fare una ricerca con la data, per esempio guardarsi la prima pagina del giorno in cui è nato, oppure lo potrà fare con una parola chiave, potrà cercarsi tutto quello che c'è su Garibaldi, lo si può leggere col testo così, lo si può scaricare, lo si può stampare. Questo mette insieme l'idea che si possano fare ricerche storiche per gli storici in cui si può navigare in tutte le edizioni, in tutti gli allegati, in tutti gli inserti, in tutte le cronache locali, piuttosto che su Petro Mennea o Paolo Rossi, e andare a vedersi tutte le pagine che riguardano quell'avvenimento, quella storia. Potrà stamparsele, potrà leggersele guardando la pagina in originale, oppure potrà cliccare sugli articoli e leggersi gli articoli in formato solo di testo. Ma adesso abbiamo ancora qualche settimana perché stiamo provando anno per anno a fare tutto il collaudo per evitare che poi si parte e ci sia qualche buco. Abbiamo ancora 14 anni da collaudare, ma è questione di poche settimane, e poi 144 anni della nostra storia sulle pagine della stampa saranno disponibili a tutti. Gratuitamente, che non è poco.